terra amara dal 5 novembre in onda di domenica ottime notizie per i fan di terra amara dal 5 novembre 2023 la celebre soap opera turca di canale 5 va in onda anche la domenica sera con tre nuovi imperdibili episodi dalle 21 e 30 circa questo è il cambiamento improvviso deciso dalla rete dopo gli ascolti sempre più alti registrati dall'appassionante soap birza manlar cucurova nel titolo originale trasmessa in patria su a tv dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022 formata in tutto da quattro stagioni per più di 400 puntate previste in italia sulla rete ammiraglia mediaset scopriamo di seguito le anticipazioni e le trame dei nuovi episodi in onda domenica 5 novembre 2023 in prima visione assoluta su canale 5 anticipazioni terra amara di stasera 5 novembre 2023 dopo quanto visto negli episodi di terra amara trasmessi dal 30 ottobre al 4 novembre 2023 nella prima delle tre puntate in onda domenica 5 novembre scopriamo che gulten si sente raggirato da gaffur dopo che lui gli ha impegnato un terreno ma non ha raggiunto la somma di denaro definita per pagarglielo quando più tardi gulten si accorge della faccenda corre a rinfacciarglielo deluso intanto continuano le occasioni per fikret di aprirsi e confessare la verità sulla sua identità questa volta tocca alla bella mujeigan da poco orfana di zia e per questo ancora molto sconvolta come prenderà le parole di fikret che nel frattempo sappiamo essersi innamorato di lei più tardi nuove svolte sulla faccenda figlio illegittimo vengono a galla a quanto pare infatti safiai non sarebbe mai stata abusata da adnan yaman o almeno questo è quello che lutfiai svela a fecheli sarà la verità colpo di scena quando dopo essere uscita dall'ospedale zulia si mostra sempre più vicina in sintonia con demir la loro felicità raggiunge la bocca di tutti quando sul giornale esce un articolo che mostra i due coniugi uniti più affiatati che mai lasciandosi alle spalle lo sguardo geloso di umit delusa dal loro ritrovato amore demir e zulia annunciano di voler dare una svolta non solo alla loro azienda ma persino all'intera cittadina di cucurova tutto questo fa pensare che alla fine demir non riuscirà mai a divorziare da zulia